Era circa l'una di notte quando i residenti in piazzale Roma hanno chiamato in questura per la rissa tra quattro stranieri. Erano ubriachi e si stavano pestando. Il primo bilancio è di quattro marocchini identificati e denunciati, ma non è finita così. Tre se ne sono andati, il quarto invece è estratto dallo zainetto che indossava una grossa catena e un coltello, scagliandosi contro i quattro agenti, agitando la collana e cercando di accoltellare i poliziotti. Gli agenti sono indietreggiati, riuscendo a schivarlo. Lui si è accannito sulla volante, l'ha pesantemente danneggiata, continuando con minacce di morte. I poliziotti l'hanno bloccato e perquisito. Addosso aveva anche della droga, 6 grammi di hashish. Una volta fatto salire a bordo, ha iniziato a picchiare la testa contro il vetro, dimenandosi. Alla fine due agenti hanno riportato due giorni di prognosi ciascuno. Anche lo straniero è stato portato in ospedale per i dolori che aveva. Una volta caricato su una barella, si è tuffato al suolo, offerendosi leggermente al capo. Alla fine è stato arrestato per resistenza, lesioni, danneggiamento aggravato. E' denunciato a piede libero per porto di oggetti atti ad offendere e detenzione ai fini di spaccio di droga. Si tratta di un marocchino di 47 anni senza fissa di mora, regolare in Italia e con una lunghissima sfilza di precedenti.